la direttiva energetica europea secondo noi ha una finalità virtuosa ma è la modalità attraverso la quale si vuole raggiungere la questa finalità che secondo noi è profondamente sbagliata un approccio coercitivo obbligatorio secondo me non renderà percorribile la direttiva al contrario invece l'approccio che suggeriamo noi un approccio di supporto e di accompagnamento dei cittadini verso la svolta green la svolta ecologica immobiliare da tutti auspicata e desiderata noi abbiamo formulato tre correttivi quindi una proposta contenente tre correttivi al ministro dell'ambiente sicurezza energetica picchetto fratini all'onorevole trovaglieri componente della commissione energia europea che prevede come primo correttivo quella di prevedere per ogni stato membro la possibilità di introdurre almeno due strumenti incentivanti con coperture finanziarie da parte di un fondo energetico europeo questi due strumenti si concretizzerebbero in incentivi fiscali permanenti fino al raggiungimento degli standard energetici prefissati e delle forme di finanziamento agevolate quali i prodotti finanziari ad hoc a interessi particolarmente agevolati appunto e garanzie dello stato a supporto di questo tipo di interventi secondo correttivo consisterebbe nella possibilità di attuare un sistema di esenzione di deroghe più ampio in relazione alle specificità di ogni singolo stato membro perché il patrimonio immobiliare della svezia non è uguale a quello della germania non è uguale a quello dell'italia il terzo correttivo consisterebbe nella possibilità di prevedere una gradualità percorribile ovvero la possibilità di ogni stato membro di introdurre delle soglie di attenuazione nel percorso nazionale di efficientamento energetico immobiliare e un allentamento dei limiti temporali secondo noi questi tre correttivi determinerebbero appunto il raggiungimento di questa finalità virtuosa appunto della transizione ecologica immobiliare